Fini mondo sull'isola giapponese Kyushu, le dighe sul mare hanno ceduto alla furia della tempesta e una valanga d'acqua si è rovesciata rabbiosa sui campi e sui villaggi, tutto travolgendo nella sua corsa pazza criminale. Rassegnati senza speranza, i miserabili superstiti sembrano mettersi in salvo di malavoglia, forse pensano che per loro la morte sarebbe stata un guaio minore, una sofferenza più breve della miseria che ora li tormenterà per anni e anni, più di 600 i morti, oltre un milione i senza tetto. Ecco tutto quello che resta della lunga fatica dell'uomo sopra una fertile terra che attendeva fiduciosa il prossimo raccolto, qualche groviglio di sterpi e qualche pietra, qua è la sepolta nel fango.